Allora, io accetto sempre e volentieri quello che l'invito del caro amico dottor Vincenzo Bisceglie perché è una grande passione, qual è? Le auto, le auto sia in formato scala 1 a 1 cioè quelle vere e sia sotto forma di automovelli E' una passione che avete coltivato da quando eravate giovane? Da quando avevo 5 anni Da cosa nasce questa passione? Non ho idea, è una passione nata così Mi dicevate che sulla vostra testa c'è una marea di mensili quotidiani che riguardano l'auto, giusto? Sì, ho visto 4 ruote fin dal 1961 Quindi una collezione abnorme Ero un bambino e mi sono fatto questa cultura, tra virgolette, di questo mondo da tenera età Quali sono le vostre auto preferite? Il mio cuore batte Alfa Romeo, poi ci sono i sogni irraggiungibili, Ferrari, Porsche e la Mercedes Cosa ha di più l'Alfa Romeo in confronto agli altri? La meccanica? L'Alfa Romeo ha il fascino della sua tecnica, della sua performance sportiva e poi è uno dei miti italiani Nel mondo, giusto? Nel mondo, che purtroppo adesso si sta appannando perché non c'è più Infatti io non acquisto più quattro ruote, questo giornale gloriosissimo Da quando ha preso il sopravvento l'auto elettrica Allora, siamo arrivati, che cosa dovete farci vedere, signor Vicente? Allora, una parte della mia collezione di auto in miniatura Questo è un mobile fatto apposta per contenerle Meraviglioso Sono classificate in base a cosa, dottor Vicente? Per forza, dico, siccome la produzione di questi modelli è sterminata Io ho voluto un pochino settorizzare, limitandosi al periodo di fabbricazione delle auto Dal 1960 al 1975 Addirittura Allora, un pochino settorizzare, limitandosi al periodo di fabbricazione delle auto Scenderesti poi la gente, quella chiara dalla no E potresti ripartire, certamente non volare ma viaggiare Sì, viaggiare Evitando le buche più dure Senza per questo cadere nelle tue paure Gentilmente, senza fumo, con amore Dolce me Dottore Labbiceglie, che modello è? Questa è una Jaguar XK Ed è particolare per quale motivo? Perché è una delle prime acquistate e risale al 1954 Addirittura, complimenti Allora, quanti pezzi sono? Oscilla tra mille e mille cento pezzi Mi dicevate che la peculiarità è il fatto che ognuna di questi auto ha lo scatolo Per avere un valore collezionistico Ogni pezzo deve avere la sua confezione originale Quindi tante volte lo scatolino, il contenitore viene strappato, buttato Invece li ho conservati, occupano un po' di spazio Il valore è intrinseco di ogni pezzo, da cose che ne indicano? Dall'età? Dall'età è un complesso di cose Non ho mai... Perché a voi non interessa la commercializzazione Questa è una passione che avete voi? Lo so che ci sono alcuni pezzi che hanno un certo valore collezionistico Ma non saprei attribuire Ok Più che altro per me ha un valore affettivo Lo so invece noi vi ringraziamo per il tempo che ci avete dedicato Grazie per averci aperto le porte della vostra casa E averci fatto vedere una collezione così importante La tua è una presenza sempre gradita e qualificata Grazie Grazie